Grazie a tutti. In realtà il nome che Dio presenta a Mosè è duplice perché anzitutto Egli si definisce come colui che è, io sono colui che sono, sottolineando che Dio è tutto, che Dio è l'Onnipotente, che Dio è grandezza, che Dio è infinito, che Dio sostiene la storia, il mondo, la vita di tutti noi. Io sono colui che sono. Ma poi, vivere al proprio nome sotto un altro punto di vista, come il Dio di Abramo, di Sanco, di Giacobbe. In questo altro aspetto del suo nome è messa in evidenza invece la sua vicinanza, la sua premura, la sua cura, la sua provvidenza, il suo amore per l'uomo. Quel Dio che è e che ha Onnipotenza infinita è lo stesso Dio che entra in una relazione di amore, di prossimità, di cura nei confronti di ciascuno di noi. Ma non basta, perché a Mosè che ascolta da Dio questo duplice nome, Dio anche rivela qualcos'altro di sé. Egli si fa conoscere da Lui come il Salvatore, il Liberatore, perché Dio presenta a Mosè il suo desiderio di liberare il popolo dalla schiavitù. Io sono colui che sono. Io sono il Dio di Abramo, di Sanco e di Giacobbe. Ti mando al tuo popolo perché possa essere liberato dalla schiavitù. Dio Onnipotente, Dio Vicino, Dio Salvatore. Capiamo allora come ciò che accade al Sinai in realtà è un'anticipazione. E' un'anticipazione della rivelazione completa che Dio farà di sé inviando suo figlio Gesù. Perché Gesù si rende presente in mezzo a noi colui che cerca è Onnipotenza infinita, ma colui che è vicinanza e prossimità straordinaria in attesa e nello stesso tempo colui che è Salvatore e Liberatore della nostra vita. Oggi allora ascoltando questa pagina dell'Esodo, siamo chiamati a rivolgere il nostro sguardo al Signore, contemplando nel volto e rallegrandoci, gioendo. Perché Dio è Onnipotente, ma Dio è vicino. Dio è Onnipotente, ma è nostro Salvatore. Dio è Onnipotente, ma ci ama. Dio è infinito, è grandezza, ma è il Dio della nostra vita, il Dio del nostro cuore. Il Dio che ci vuole un bene senza confini. Ed è ciò che sperimentiamo ogni qualvolta partecipiamo alla Messa e che sperimentiamo anche questa sera. Soprattutto nel momento in cui riceveremo il corpo e il sangue del Signore. Perché in quel corpo e in quel sangue c'è Dio Onnipotente. In quel corpo e in quel sangue c'è Dio vicino e amorevole. In quel corpo e in quel sangue c'è Dio Salvatore nella nostra vita. Allora volgiamo lo sguardo al volto di Dio, ricordandone il nome. Ma volgiamo lo sguardo a quel volto che nell'Eucaristia si rivela in pienezza. E stiamo nella gioia. Stiamo nella gratitudine. Stiamo nell'esultanza. E diciamolo al Signore. Grazie perché ci hai rivelato il Tuo nome. Grazie perché rivelandoci il Tuo nome ci hai ricordato che Tu sei il Criatore Onnipotente. Sei colui che ci ama appassionatamente. Sei colui che desidera salvare la nostra vita e darci la pienezza del cuore. Grazie. 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 Grazie.